il vino che oggi andiamo a testare è un vino bianco prodotto dalla tenuta cavescovo dell'annata 2016 ed è una doc prodotto da uve di sauvignon blanc e subito abbiamo trovato un elemento abbastanza negativo cioè la trasparenza eccessiva del vetro della bottiglia ma adesso vediamo tutte le caratteristiche durante il nostro stress test partiamo con l'analisi estetica della nostra bottiglia parlando dell'etichetta che ha uno stile sicuramente classico che punta a trasmettere l'antichità dell'azienda però probabilmente un po confusa dovuta al fatto che sono stati usati caratteri diversi per ogni informazione fornita e con dimensioni non proporzionate nota un po stonata è l'eccessiva trasparenza del vetro che a fini commerciali può sicuramente attirare ma che ticnicamente non garantisce una sufficiente protezione del vino dalla luce che ne può alterare la stabilità il tappo utilizzato è un agglomerato che ha garantito l'ottima conservazione del vino tipologie di tappo comunemente utilizzato per questi prodotti che appartengono alla fascia di prezzo di 6 euro per quanto riguarda l'analisi visiva di questo vino ottenuto interamente da uva di Sauvignon Blanc presenta una colorazione giallo paglierino di vino scarico con riflessi verdi e appena versato all'interno del bicchiere si nota immediatamente la presenza di bollicine questa produzione di nitrite carbonica dovuta probabilmente a una leggera rifermentazione in bottiglia durante la rotazione all'interno del bicchiere del vino abbiamo notato una buona viscosità a livello olfattivo regala ottime sensazioni si percepisce distintamente un gradevole aroma di pesca pera e note di frutta esotica nello specifico mango ed ananas in complessivo è intenso ed equilibrato per quanto riguarda la simulazione gustativa è evidente la notevole sensazione pungente dovuta alla presenza di nitrite carbonica scaturita da una leggera rifermentazione come ho già citato precedentemente durante l'analisi visiva altri stimoli che regala questo Sauvignon sono note lievemente dolci con un finale un po' amaro infine pur essendo un vino da 12 gradi e mezzo non crea problemi sensoriali di alcolicità rimanendo ben equilibrato come abbiamo visto nel complessivo è un prodotto ben equilibrato che comunque ha una buona franchezza e come abbinamento consiglio di abbinarlo con primi piatti di pesce zuppe e anche salumi magri ci vediamo alla prossima recensione ciao ciao